Anche la Jus è chiamata il miracolo, le ragazze di Bianchi infatti a Palazzo del Pero domenica prossima sono costrette a ribaltare lo 0-3 subito sette giorni fa a Sesto Fiorentino. Risultato pesante ma non impossibile per le ragazze retine che in questa stagione hanno dimostrato di avere avuto in mezzi la saldezza morale per poter arrivare così in alto. La partita si giocherà alle 17.30, obbligatoria la vittoria per le ragazze retine. In questa maniera avrebbero il diritto di giocare le residue chance nella terza partita. Non sarà facile perché la Sestese ha dimostrato il suo valore. Partita dunque aperta e le Jussine dovranno dare il meglio di se stesse per il ribaltone.